A Nangrigento, nella Valle dei Templi, innanzi al Tempio di Giunone, nell'ambito della rassegna letteraria contemporanea, è intervenuto l'autore e attore Davide Enia, che ha presentato il romanzo così in terra, Dalai Editore. Ha condotto Gero Miciche, affiancato dalla libreria Capalunga e dallo staff di Contemporanea, con Beniamino Biondi, Loris Magro, Antonio Pancamo Puglia e Dario Piparo. Ascoltiamo quindi Davide Enia e poi Gero Miciche. E' bellissimo, uno dei luoghi più belli al mondo questo qua, in cui la gloria del Tempio che abbiamo alle nostre spalle, quelli che si stendono lungo il mare, ci insegnano come l'architettura, altro non è se non una compagna serena della vita, che ci spiega il rispetto del luogo, la potenza e la costruzione e le persone che sono venute qua attente, silenziose, con partecipi, hanno reso giustizia alla meraviglia di questo luogo e all'umile interpreta che c'era, che ero io con le mie umili storie, portate all'Olimpo dalla gloria dei templi. Il terzo appuntamento della rassegna è giunto al termine, ce l'abbiamo fatta anche questa sera. Devo dire che è stato uno degli appuntamenti di maggior pregio forse di queste tradizioni. Davide Enia è veramente quello che si dice un animale da palco. Le sue opere lette questa sera sono straordinarie, i brani letti di Cosinterra meravigliosi, la sua interpretazione suggestiva come suggestiva è questa cornice del Tempio di Giunone, quindi diciamo che il bilancio è più che positivo. Adesso noi diamo appuntamento ai nostri telespettatori, ma anche a coloro che volessero intervenire, per l'8 di agosto alle fabbriche Chiaramontane, sempre inizio puntuale alle 19 e quindi vi consigliamo di venire alle 18 e 30. Appuntamento quindi l'8 agosto con Giuseppe Rizzo alle fabbriche Chiaramontane, presentiamo piccola guerra lampo per radere dal suolo la Sicilia, Edito Feltrinelli. Non mancate, grazie.